Quanto è importante per la tua squadra l'etapa di oggi e il fatto di correre questo Giro Next Gen con dei corridori già molto conosciuti a livello mondiale? Di sicuro l'etapa di oggi è molto importante per la mia società, per gli sponsor, per tutta l'organizzazione e spero comunque di riuscire a fare un ottimo risultato. Mentre essere qua da primo anno e correre un Giro, soprattutto un Giro Next Gen con atleti già fermati, è qualcosa che ti dà una grande soddisfazione. E speriamo che sia meglio di oggi. Daniel, è scritto che è victorioso sul tuo Giro. C'è qualcosa che si è vero e che ti può rendere oggi? Sì, sicuramente siamo stati molto fortunati nei ultimi 500 metri, perché ho scoperto dietro nel randambo, quindi non potrei fare il mio migliore spriti. E sicuramente credo che i piedi erano buoni, con la squadra abbiamo perduto un po' l'altro, ma credo che oggi è un nuovo giorno, quindi abbiamo cambiato il nostro mindset. Sì, sicuramente andremo a fare tutte le carte oggi per la sprint, per fare il migliore lead-out possibile e vedremo come si sta sotto la linea di Cremona. Siete frustrati con l'esterno? E cosa puoi fare oggi? Io credo che l'esterno fu un'amplice, l'esterno non è molto buono per perdere contro lui, ma per sicuramente non siamo qui per diventare l'esterno, quindi speriamo di farlo meglio oggi. Sì, sicuramente l'esterno fu un buon giorno, l'esterno non è perfetto, ma credo che abbiamo anche un buon team per oggi, e vediamo. E' una fantastica top 5, l'esterno fu un'amplice, aspettatevi per oggi o ancora meglio? Sì, oggi speriamo che ci sia molto bene in questa fase, perché è una fase per sprinter, e i miei team sono cercato di un buon risultato, e i miei team sono cercato di un buon risultato, quindi sì, sicuramente lo faremo. Voi ragazzi avete una frase in francese, non c'è 2 senza 3, è vero? Ho spero, sì, credo in questo, quindi proviamo a cercare di fare tutto per questo. e normalmente è un buon risultato, una stagione molto flat, normalmente è un po' di headwind in la fine della rata, quindi è un po' di headwind, ma siamo ancora molto motivati per questo, e speriamo di una vittoria. Grazie a tutti.